Ho visto come ti guardano i tuoi figli. Loro mi amano solo perché li obbligo. Guido invece chi lo sa. Come chi lo sa? Si vede benissimo che ti vuole bene. Allora perché non voleva che venisse a Milano? Io penso che lui ogni tanto si vergogna di me. Io non sono la donna giusta per lui. E quale sarebbe quella giusta? Un intellettuale? Se ne meriterebbe una, guarda. Ma io che devo fare? Sparisci per un po'. Perché non vieni con noi? Andiamo in Francia, in Camargue, con un po' di amiche femministe. Sì, femministe. Quelle che pensano solo a loro stesse. E figli mariti mai. Dai, vieni. Male che va a vedere un posto diverso coi bambini. No, grazie. Comunque non è sempre facile capire cosa vogliamo davvero. Tu, per esempio, lo sai cosa vuoi? Mi piacerebbe tanto che Guido ottenesse quello che vuole dal lavoro. Sì. Questo è un suo desiderio? No, è anche mio. Sì. Ma qual è un desiderio che riguarda solo te? Non lo so. Mi sa che non ce l'ho. Mi sa che non ce l'ho. Mi sa che non ce l'ho. Grazie a tutti.